La città di Naso è un cantiere aperto e quando l'edilizia, soprattutto quella pubblica in movimento, anche l'economia si muove e di questi tempi, mentre la pandemia arretra, è davvero orocolato. Proprio per questo il sindaco di Naso, Caetano Nani, è soddisfatto di quanto sta avvenendo nel suo comune anche in prospettiva di rimettere nuovo strutture importanti per il territorio. Sono orgoglioso che stanno andando avanti tantissimi cantieri sulla nostra città. Il primo è il consolidamento del centro storico, dopodiché finalmente sono partiti i lavori al Teatro Vittorio Alfieri per migliorare gli impianti e quindi l'accoglienza di tutti i nostri ospiti. Stanno per essere completati i lavori al nuovo municipio, finalmente la città di Naso avrà un municipio degno del suo nome e spero che fine luglio, massimo nei primi di settembre, possiamo entrare nei nuovi locali più accoglienti e più consoni ad una città come quella di Naso. Cantieri aperti anche alla Chiesa Santissimo Salvatore, al campo sportivo, stiamo migliorando delle piazzette e quindi il verde pubblico in alcune contrate come Caria, come Ficheruzza, interverremo su Ponte Naso. Abbiamo presentato dei progetti per la ristrutturazione della Chiesa Madre, per il miglioramento della rete idrica e fognaria, sulla riqualificazione urbana, sfruttando delle risorse del PNNR. C'è un'attività frenetica con l'impegno totale del nostro ufficio tecnico, anche supportato da professionisti esterni con regolari incarichi di progettazione che ci stanno aiutando moltissimo in tutti i settori. Uno dei progetti che stiamo presentando è sui servizi sociali, con la ristrutturazione della nostra Casalbergo per Anziani, che stiamo dedicando ad attività di centro diurno e semi residenziali per soggetti autistici, ampliando i servizi che già abbiamo. Completeremo tutta quella struttura anche per un ulteriore piano, sempre per centro semi residenziale, sempre per soggetti disabili, non tralasciando nemmeno la digitalizzazione, dove entro fine mese dovrebbero arrivare i decredi di finanziamento per circa 250.000 euro, per digitalizzare il nostro computer e i servizi per i nostri cittadini.